Buonasera a tutti amici rossoneri e bentornati sul nostro CG di AC Milan Inside. E' stata una torne di amichevoli perfetta quella del nostro Milan che ha portato a Milano 3 risultati positivi su 3. La sfida di stanotte ha visto i nostri rossoneri partire in vantaggio per 2-0 per poi purtroppo essere recuperati 2-2 dal Barcellona con una doppietta di Lewandowski e dunque il match si è terminato ai rigori. E' proprio durante questi rigori dove abbiamo visto la classe e la personalità del nostro giovanissimo portiere Torriani. E infatti grazie anche al portiere classe 2005 siamo riusciti a portarci a casa la terza amichevole parando ben due rigori. Restando in ambito portieri dopo l'infortunio subito da Sportiello si era pensato a Scuffette ovvero portiere del Cagliari come vice Mike. Dopo l'ottima tournée americana però c'è stata una grandissima frenata e si sta pensando di dare il ruolo di vice a Torriani. Cosa ne pensate voi? Siete d'accordo con la nostra società? Secondo la Gazzetta dello Sport Chiesa sarebbe stato proposto dal suo agente al Milan. Il giocatore sembra dunque in uscita con la Juve ma resta comunque sia alto il suo ingaggio. Logicamente vi saremo informati anche per quanto riguarda questa super news ma intanto voi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere Federico il rosso nero. Domani sera esattamente alle ore 18 Morata sbarcherà a Milano. Già perché venerdì vedremo la sua presentazione presso casa Milan mentre invece sabato si unirà finalmente alla squadra. Queste sono tutte quante le nostre notizie di giornata e io come al solito vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social. Vi aspettiamo!